Siamo qui con mister Bonitta nel ritiro della Nazionale Azzurra di Volley. Mister, da dieci giorni che lavora con la squadra al completo, come sta impostando gli allenamenti? Il primo blocco che terminerà alla fine di questa settimana è incentrato su una omogeneità della condizione fisica delle ragazze. Cerchiamo di portarle tutte a un livello accettabile per quello che sarà poi il secondo blocco, quello più importante dove andremo a lavorare sull'intensità di gioco. Hai inserito qualcosa di nuovo per quanto riguarda invece il tipo di gioco? Qualcosa di nuovo realmente no, qualcosa di diverso, qualcosa di più veloce, qualcosa di più attento, qualcosa di più strutturato. Ci stiamo lavorando e le ragazze stanno rispondendo bene, sono molto contento di come stanno andando le cose. Come sta rispondendo questo gruppo alle sue prime indicazioni? Io sono molto contento, ripeto, questo è un periodo anche abbastanza difficile per loro, molte di loro sono reduci da una vacanza piuttosto lunga, quindi c'è da togliere un po' di ruggine, ma la disponibilità è molto alta, la serenità è buona, quindi stanno facendo bene. Avete quattro partite con il Giappone, due contro la Cina, due ottimi test pre-Grand Prix. Che Italia si aspetta per quelle occasioni? Mi aspetto un'Italia che vuole dimostrare in generale quali sono le proprie qualità in termini di squadra, ma anche in termini singoli. Saranno test importanti per farmi capire lo stato di foro, ma anche la motivazione e la capacità di prendersi un posto da titolare di tutte loro. Come ruoterà le atlete al Grand Prix? Il Grand Prix lo affrontiamo con un percorso in progressione, quindi per noi il Grand Prix è importante, cercheremo di arrivare in finale, su questo non c'è nessun dubbio, però darò spazio a molte, perché credo che molte abbiano la possibilità di farmi capire di che pasta sono fatte. Come è stato l'impatto nel tornare ad allenare delle ragazze dopo un'esperienza lunga comunque nel mondo maschile? Un'esperienza che avevo già fatto, quindi per me non è stato un grossissimo problema, sono totalmente dentro a questo nuovo progetto femminile fino a Rio 2016, passando per il grande mondiale in Italia, quindi nessun tipo di problema, ripeto. Ecco, in ambito femminile si dice che bisogna essere più psicologi rispetto all'ambito maschile, nella gestione del gruppo, lei cosa ne pensa? Un po' più attenti direi, non tanto psicologi perché poi alla fine si entra in un vortice e non ne esce più, un pochino più attenti magari trovando la possibilità di essere equilibrati senza tante esagerazioni, questo credo sia un po' il segreto. I mondiali in Italia sono sicuramente un grossissimo evento, anche dal punto di vista mediatico. Qual è il suo rapporto con il mondo dei social? Un rapporto buono, tra l'altro con due figli che stanno crescendo di età delle medie, mi stanno portando sempre nuove informazioni, sono un po' loro che mi aggiornano sulle cose, il rapporto è buono, quindi sono aperto a qualsiasi novità. Un aggettivo suo, mister Bonitta, per questa nazionale? Divertente e soprattutto appassionante. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie.